Musica Vorremmo cercare di ripercorrere proprio i passi e gli step per un ragazzo quando diventa un giocatore di Olimpia E i passaggi fondamentali dell'estate sono tre Il primo è il video introduttivo che presenta Palacanestro Limpio Milano Musica E ci ho contato per tre ore salente i nostri giocatori E con gli assistenti Fioretti Cancelleri e con Giustino Danesi nostro preparatore Sarete sottoposti a tre ore di duro lavoro e dura fatica Musica 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 Giustino un po' così, però in Inghilterra, my name is Justin, it sounds fucking good. Ok, ciao. I ragazzi sono migliori dei ragazzi a giocare, dunque significa che i ragazzi appassionati di basket lo sono a 360 gradi, è una bella esperienza, non avrei mai pensato di coronare la mia passione per il gioco in questo mondo. Ringraziamo, ringraziamo, speriamo che sia divertente. Alla Limpia! Un'esperienza unica e ripetibile, sono contento di averla fatta, grazie a voi. Ci siamo partiti 6-0 per loro e questo ci ha dato un po' di fiducia, abbiamo recuperato perché Fioretti ci ha poi mischiato i quintetti in maniera tale che noi potessimo recuperare e ha fatto due chiamate affinché noi potessimo andare a impattare almeno, no, non l'abbiamo mai impattato in realtà, però potesse essere una partita. Al di là di tutto è stata una incoerenza divertente e concordo con quello che ha detto il mio amico Mario e spero che se ne possa organizzare più di una durante l'anno. Per noi è divertentissimo, è il secondo anno che lo facciamo, è una bella iniziativa, ci sembra che anche i ragazzi siano restati soddisfatti.